per i nostri amati pesci vi ricordo che full timer pesca è un canale che si occupa di pesci a 360 gradi perciò dalla pesca classica pesca gara acquari cucina tutto tutto quello che riguarda i miei amici pesci allora mi è arrivato questo bel pacchettino qua ovviamente io ho già aperto e questo è una qualcosa che sostituisce le pietre per reggiare gli acquari all'interno questo faccio vedere qua poi il mio tubo della reazione che dopo vi farò vedere come funziona ovviamente un saluto da falloppio e angel che sono dentro al teschio qua che si sta mangiando con una boys che ormai è da una settimana li vedete uscite uno meno due ovviamente qua c'è quella gelosa tranquilla ragazza tranquilla andiamo a vedere qua cosa mi è arrivato allora questo è per tenere fermo le canne da spinning o da carpici comunque le canne che praticamente per le canne che sono due pezzi se con lo strappo un attimo strappo uno strappo due se praticamente si adesso devo bene guardare come funziona però dopo ve lo farò vedere poi cosa abbiamo qua cosa abbiamo eccola un porta terminale sub professionale praticamente questo è il metro non non so se riuscite a vedere qua è il materiale dove si infila lamo figo 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 fighissimo direi adesso poi faremo un paio di prove bello il metro anche qua per capire la lunghezza del terminale buono adesso ragazzi monto questo questo filamento qua nell'acquario e vediamo come funziona per arreggiare i miei ragazzi fa dopo l'arriatore partito forse anche un po esagerato per far l'occhio angel però durante il giorno gli danno una bella scarica bello però è bello un po di ossigeno ci siamo ho aperto la scatolina devo dire non male neanche quella spero di riuscire a prendere si inserisce qua l'anellino e poi questo un po più teso eccolo qua figo però ragazzi spero che riusciate a vedere così finalmente avrò tutti i miei terminali in straordine che ti regolano faccio sempre un po di confusione dentro la cassetta a breve vi farò vedere degli altri unboxing dalla roba di pesca che mi arriverà sembra che mi arriva anche un'altra sponsorizzazione e sarà abbastanza interessante da vedere lasciate un like attivate la campanellina e che full timer pesca sia con voi ciao ragazzi grazie a tutti